Rimettere in moto e schiacciare sull'acceleratore per recuperare terreno e non perdere il contatto dalle due battistrada prima di arrivare alla curva che porta al giro decisivo cercando se è possibile di rimuovere o quantomeno evitare gli ostacoli è con queste premesse che l'Atletico Terme Fiuggi cerca di riportare l'inerzia a suo favore contro una vastese dall'andamento si indecifrabile e che appunto però per questo può sempre rappresentare una pericolosa mina vagante lungo il percorso dallo stadio capo Iprati di Fiuggi, quattordicesima giornata di serie D, girone F, atletico contro Vastese un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno ecco che inizia la sfida con il primo pallone manovrato come detto dall'Atletico Terme Fiuggi sembra pronto ad andare in potenza, ecco che va lui con il destro a girare, direttamente in porta è un grandissimo gol, la sbloccata potenza dopo quattro minuti sul cronometro l'Atletico Terme Fiuggi è già in vantaggio, esulta il 7 che viene abbracciato da tutti i componenti della panchina Prodezza, chiama lo schema Diallo, ecco che parte il suo traversone per lo stacco di testa di un giocatore in area di rigore Panaioli e Monza in area di rigore, ecco che parte il traversone, ancora pericoloso il colpo di testa questa volta però, Secco non riesce a smanacciare e allora arriva il pareggio della Vastese sembra aver colpito Di Filippo da solo, indisturbato in area di rigore Ecco per Agnello che poi va a lungo, attenzione pericolo in area, ancora Alonzi in area piccola e poi si salva in qualche modo Alonzi e Monza sempre in area di rigore, altro traversone molto pericoloso Ancora Agnello la fa scorrere per Panaioli all'ingresso in area di rigore, lato corto, il cross pericolo e arriva il gol del raddoppio della Vastese lasciato tutto solo in area di rigore, libero di colpire l'attaccante degli ospiti, fa 2 a 1 e si ricomincia è iniziato il secondo tempo di Atletico Terme, Fiuggi, Vastese buona la sfera qui per il 10, poi Panaioli, il tiro e il gol un gol fantastico, sotto l'incrocio dei pali dovrebbe trattarsi di Monza, che ha trovato l'incrocio parte Agnello, forte, deviato e il pallone finisce in rete il gol del 4 a 1 che chiude di fatto il match game over praticamente al Capo Iprati per l'Atletico è 4 a 1 in favore della Vastese raccoglie la sfera un compagno che va alla battuta con il destro dalla distanza il rinvio lungo, l'arbitro porta il fischietto alla bocca e fischia tre volte tonfo interno dell'Atletico in casa contro la Vastese che espugna il Capo Iprati per 4 a 1 e notte fonda a Fiuggi per la formazione di Fabrizio Romondini è tutto per questa sfida dal Capo Iprati un saluto da Francesco Mafera e Marco Daguanno